Chiamo sul palco l'onorevole Tommaso Foti, iniziamo, e Katia Polidori, l'onorevole Katia Polidori. Prego Katia Polidori. Intanto Paolo, scusa, si sente, è del senatore Ripamonti, che lo vedavate nella slide. Il senatore Ripamonti è un agente immobiliare di Savona, che adesso si è prestato alla politica per questa legislatura. E dicevo, lui ci ha aiutato tanto nell'articolato che avete visto prima. Non è della Commissione 14esima del Senato, ma si è comunque fatto in modo di partecipare ai lavori della Commissione, essendo appunto figura conoscitrice del nostro lavoro, perché spesso succede che la politica non è un po' distante dal punto di vista dell'operatività, della pratica quotidiana, perché magari ci sono tante le cose da sapere e da conoscere. Ecco, questa figura ci ha aiutato nell'articolato, oggi dovrebbe essere qui con noi per portare un saluto e per portare anche una parte ancora più, se vogliamo, tecnica dell'articolato stesso. Però ecco, mi ha appena scritto che è in Commissione votante, quindi non riesce a uscire dalla Commissione stessa e quindi vi porto i suoi saluti. Grazie. Presidente, lei mi aveva detto prima che aveva anche una cosa da farci vedere, un filmatino, una cosa, non mi ricordo più. Così perché poi entriamo, siccome è una cosa carina, poi entriamo nei meandri della politica e della legge di stabilità e allora ridiamo un po' prima. Aspetta, ci presenti questa... Sì, no, riguarda, come sapete, la Federazione ha messo in atto una campagna di comunicazione qualche mese fa. Abbiamo, diciamo, tramite una società dedicata di comunicazione abbiamo lanciato al maxi un mesetto e mezzo fa circa tre video animati di 45 secondi che hanno l'obiettivo di comunicare al cittadino che comprare o vendere casa o affittarla senza un agente immobiliare è rischioso e quindi quanto sia invece utile nell'interesse prima di tutto suo utilizzare, diciamo, quelli che sono i servizi di un agente immobiliare professionale. Questo è stato l'obiettivo, è stato anche in parte criticato, no, un po' questa campagna perché, sai, magari si pensava nel video vedere l'agente immobiliare con la cravatta, con la giacca invece, insomma, sono dei cartoni animati, sono dei video animati. È stata anche una volontà di fare una sorta di contropubblicità on pal che sapete, no, fa una campagna, una concorrenza, se vogliamo, contro, non a favore della vente diretta, contro l'agenzia immobiliare e devo dire che siamo a oltre 600 visualizzazioni sta avendo un successo incredibile, quanto detto? 600.000, scusa, 600.000 visualizzazioni, perdonami, hai ragione, 600.000, 600 ero un pochine, 600.000 visualizzazioni e poi stanno ancora, sono sempre di più e piace, piace nel senso, ma al di là del piacere arriva il messaggio, il messaggio che appunto è importante nel momento in cui si ha il pensiero di intraprendere il percorso della compra e vendita, farlo con un agente immobiliare. Allora abbiamo continuato, abbiamo dato un seguito a questa campagna, siamo sotto Natale e quindi in tema, se vogliamo, anche di abusivismo, visto che è un problema, una piaga terribile che abbiamo, abbiamo commissionato alla società di comunicazione un altro video animato che oggi lanciamo pubblicamente e che quindi da stasera barra domani sarà in tutti i social e speriamo che sia visualizzato al massimo, quindi prego la regia di mandarlo. Natale non è Natale senza il vino bambino, proprio come acquistare o vendere casa senza maggiori immobiliari. Buona cosa, da chi ha? C'è molto da dire, è chiaro che c'era il babbo finto, il babbo Natale e Fasullo diciamo e quello invece è vero e c'è la similitudine con la nostra attività, cioè rivolgersi a un agente immobiliare regolare, regolarmente iscritto, quindi questo è un po' l'intento e niente speriamo che arrivi il messaggio a chi di dovere. Paolo. Bene, allora iniziamo la seconda parte della nostra giornata sul tema del mercato immobiliare. Mercato immobiliare, ricordavo all'inizio 20% del PIL, il 4 marzo ci sono state le elezioni, noi precedentemente con un gruppo di associazioni molto sostenuto abbiamo fatto un manifesto in vari punti, un manifesto che è raggiunto a una sintesi dopo innumerevoli riunioni, dopo tante attività che abbiamo fatto comuni, perché in questo paese la cosa più difficile che si riesce a fare è quella di mettersi insieme per uno scopo comune, siamo tutti allenatori di calcio, siamo tutti liberi battitori, abbiamo tutti la verità in tasca. Molto probabilmente più che parlare avremmo tanto bisogno di ascoltare, ma in questo naturalmente non ci aiutano nemmeno i social in cui ognuno può esprimere la propria cultura, la propria incultura o può scrivere quello che vuole. Io molte volte ho mutuato tante volte quel detto di Mentana, che definiva quelli che scrivevano, alcuna una buona parte, quelli che scrivevano su Facebook degli Webeti. E in effetti anche in questi giorni ho visto alcuni commenti su questa nuova normativa precedente e devo dire, riconfermo che i social sono meravigliosi, però veramente è uno stil di cidio, è veramente una grande opportunità per tutti che però molti non sanno sfruttare, ma scusate lo sfogo. Oggi siamo qui con Katia Polidori, attendiamo anche Deiane, Presidente di Confassociazioni, Presidente Foti, che sono sempre stati vicino nelle nostre associazioni al mondo dell'immobiliare. Un mondo che in questa legge di stabilità è stato completamente dimenticato, perché lo possiamo vedere, non ci sono interventi, l'abbiamo visto prima. Rappresentiamo sempre una buona parte del PIL e l'analisi semplice da cui vorrei partire è se anche oggi il PIL rappresenta il 16-17% del PIL e se non si interviene su questo 16-17% come facciamo a fare ripresa? Quando sappiamo che il settore immobiliare storicamente, non perché è una mia opinione o di qualcun altro, ma perché storicamente l'unico settore anticiclico è proprio quello dell'immobiliare. Perché motivo? Perché il settore immobiliare non decentra, il settore immobiliare ha una leva altissima perché ha una filiera lunga che va dalla chimica agli arredamenti e quindi coinvolge tutta una serie di attività e se vediamo anche gli altri paesi e vediamo la classifica europea della crescita economica, vediamo che tutti i paesi che hanno dato fiato all'immobiliare stanno crescendo. Vi ricorderete per fare un piccolo esempio della Spagna che nel 2009-2010 aveva una bolla immobiliare dieci volte la nostra, di una Spagna che doveva demolire gli immobili perché aveva costruito troppo, se oggi guardiamo i dati economici, macroeconomici della Spagna, vediamo che il mercato immobiliare aumenta sia per numero di compravendite sia per valori immobiliari, che se andate in Spagna farete fatica a trovare delle unità immobiliari da comprare nella parte turistica e in Spagna aumentano i dati dell'occupazione e aumentano i dati. Quindi il tema vero è cosa possiamo fare per questo mercato immobiliare, come possiamo rilanciare il nostro mercato. Un saluto all'onorevole Latini. Quindi partiamo da Giorgio Spaziani Testa, con fedelizia. Allora siamo nel vivo oggi, la legge di stabilità, ma questo mercato immobiliare per ripartire al di là e al netto delle cose che mancano, di cosa avrebbe bisogno? Cosa possiamo proporre noi alla politica al fine di rilanciare un mercato che ricordo rappresenta anche un dato sociale, 73% delle famiglie italiane, proprietari del meno di un'abitazione. Quindi non parliamo solo di ricchi proprietari di casa, ma di famiglie e del tessuto sociale della nostra nazione. Di proposte noi ne abbiamo fatte tante, anche insieme, anche con altre tante associazioni. Tu hai fatto vedere prima, era mostrato il manifesto che abbiamo presentato prima delle elezioni, in dieci punti, in cui c'era tutto, alcune cose anche abbastanza generiche e generali, ma per lanciare solo dei messaggi, per far capire che non si trattava di proposte di nicchia o di categoria, come qualcuna potrebbe essere interpretata, ma si trattava di proposte riguardanti un intero settore, perché quel manifesto lo firmava la proprietà immobiliare, lo firmavano gli agenti immobiliari, i promotori immobiliari, le società immobiliari, anche con Aspesi, tante altre associazioni, Finco, credo ci fosse anche, che sono coloro che svolgono le attività legate all'edilizia e ai materiali stessi dell'edilizia e quindi tutto ciò che ruota, che diciamo identifica la filiera di cui si parlava prima. Quindi quelle proposte erano abbastanza vaste proprio per far vedere alla politica, che però ha orecchie abbastanza poco attente da questo punto di vista, per far vedere che non c'erano richieste così corporative, ma richieste di interesse pubblico, perché quando si parla, come si parlava in qualcuno di quei punti, di rigenerazione urbana e comunque di riqualificazione degli immobili, quando si parla di detrazioni, qui faccio magari qualche accenno un po' più specifico dopo, detrazioni per tutto il mondo degli interventi sugli immobili, dall'antisismico alle ristrutturazioni e all'energia, quando si parla di permuti immobiliari, vado un po' a memoria sui punti, quando si parla anche, eccole, di cedolare secca, la famosa cedolare secca di cui parlavamo prima, ma di liberalizzazione dei contratti di locazione, di tanti interventi generali, ripeto, si cercava in quel modo di far passare un messaggio che però fatica a passare, e guardo l'onorevole Foti, anche se lui è il contrario di quei politici di cui parlavo, perché l'onorevole Foti, per chi non lo sapesse, è una persona che si è impegnata negli anni, anche in precedenti legislature, in modo veramente diverso rispetto a tutti gli altri e concreto per il settore immobiliare, ma parlo invece della generalità della politica che anche quando sembra e appare vicina, e non mi riferisco neanche alle altre onorevoli presenti naturalmente, ma la politica, anche quando sembra vicina, e perché abbiamo esperienza soprattutto con l'onorevole Polidori e l'onorevole Latini non sarà da meno e non è già da meno con quello che ha fatto finora, ma quando ci rivolgiamo anche alle parti politiche che sembrano almeno più attenti all'immobiliare, poi qual è la cosa che avviene? Che stringi stringi, mi viene da dire con termine poco elegante, ci si concentra su che cosa? Per le tasse sulla prima casa, sull'abitazione principale, tassarla, non tassarla, schieramenti di qua e di là per fare il proclama a difesa della prima casa o per fare il proclama per dire no, anche loro se sono ricchi devono pagare, poi non si sa chi siano i ricchi, però questa è una cosa che veramente ci danneggia molto, perché finisce per far dimenticare il messaggio che davi tu Paolo poco fa, cioè che l'immobiliare è un intero settore che va visto a tutto tondo e che è un settore che produce reddito. Io ieri ero al tavolo del ministro dello sviluppo economico Di Maio, che era il tavolo per le imprese, in cui Confedilizia era presente e ha parlato anche, mi sono permesso di chiedere anche pochi secondi prima al presidente Baccarini, se aveva piacere che parlassimo anche di agenzie immobiliari, cosa che abbiamo fatto, era un tavolo per le imprese, lì abbiamo detto, con specifico riferimento ai contorni di quel tavolo, che ci sono tante società immobiliari, tante imprese che fanno gestione immobiliare, tante imprese, piccole imprese, era un tavolo per le piccole imprese, che fanno mediazione immobiliare e che faranno tanto altro magari sulla base di questo emendamento, ma chi fa gestione di immobili, sono tutte attività che fanno parte di un settore intero che muove l'economia. Noi non so, diceva ieri sempre in quella riunione il presidente del Lancia, con riferimento alle costruzioni, che è un settore legato anche se non identico al nostro, diceva lui, non ci ascoltate, forse non ci facciamo, non siamo bravi noi a farci capire. Io credo che non sia questo, che non siano bravi coloro che dovrebbero ascoltare, perché io credo che noi abbiamo detto in tutti i modi e anche con i fatti abbiamo fatto capire che l'immobiliare deve essere tutelato. Tu chiedevi come, noi le proposte lì le abbiamo fatte, alcune sono specifiche, non torno sulla cedolare, primo perché ne abbiamo parlato troppe volte, secondo perché ne abbiamo parlato poco fa, però il tema fiscale è un tema che non va assolutamente sottovalutato. Qui il primo punto era riduzione della pressione fiscale sul comparto immobiliare, noi come Confidelizia insistiamo su questo, ma dobbiamo continuare a farlo perché se no altrimenti non so chi lo potrà fare. Ancora ieri, due giorni fa, il senatore a vita Monti, sottolineo a vita perché qualcuno ogni tanto se lo dimentica, nominato senatore a vita prima di fare la omonima manovra, non corretta dai governi successivi, quindi non ce la prendiamo solo con lui, il senatore a vita Monti ha detto, ho dovuto mettere la tassa sulla prima casa perché si era creata quella situazione di difficoltà finanziaria, Berlusconi la voleva mettere e la Lega gliel'ha impedito, qui ci sono esponenti dei vari partiti, potranno smentire o confermare, ma al di là di queste schermaglie fra partiti, per l'ennesima volta Monti ha detto che lui ha messo la tassa sulla prima casa, non ha detto che ha fatto benato, cioè ha previsto che tutti gli immobili che venivano colpiti prima da Lici per un totale di 9 miliardi, da quel momento in poi fossero colpiti con 24-25 miliardi di euro l'anno, cifra che poi è leggermente diminuita negli anni successivi per via dell'eliminazione proprio della tassazione sulla prima casa. Se nemmeno colui che ha fatto quella manovra, a volte credo senza neanche malizia, perché forse se lo dimentica anche, se neanche quello che ha fatto quella manovra, che adesso non ha nessun problema, senatore a vita, sta lì tranquillo nel suo scranno, potrebbe anche rivendicare la patrimoniale intera, ma se neanche lui ricorda, ripeto, forse neanche Condolo, che ha fatto ben altro che mettere la tassa sulla prima casa e ben altro anche rispetto a mettere una patrimoniale su tutti gli immobili di una quindicina di miliardi in più per un anno. L'ha fatto, e gli altri dopo non l'hanno corretto, per tutti gli anni successivi. Il professor Francesco Forte, dall'alto dei suoi 89 anni e col cervello da ventenne brillante che ancora ha, continua a ricordare che aumentare così tanto la tassazione su un settore di quella proporzione in un momento e poi mantenerla, non può che essere devastante per quel settore, e quello l'abbiamo visto, ma non può che essere devastante poi per tutti i settori collegati, perché l'abbiamo detto e ridetto, collegato all'immobiliare è tanto altro, collegato all'immobiliare è il mondo delle agenzie che hanno subito quelle situazioni, anche adesso che le compravendite riprendono, riprendono a prezzi più bassi, se non fosse accaduto quello che accaduto, io sono contento adesso per gli agenti immobiliari che ci siano più compravendite, ma sicuramente sono compravendite a prezzi molto più bassi rispetto al passato, quindi diciamo in percentuale c'è qualche guadagno in meno. Compra-svendite io le chiamo spesso, ma siccome mi ripeto su tutto, non volevo ripetere anche questo, però anche quello è un danno. I notai, io l'ho detto anche al notariato, forse dovreste essere voi a dire qualcosa su questo tema, perché anche per loro è cambiato qualcosa, ripeto, come numeri, adesso magari stanno ritornando, che sono numeri però solo in termini di numero di compravendite, sono numeri positivi solo da quel punto di vista e non dal punto di vista dei valori, perché i valori continuano a scendere, proprio il notariato ci ha detto l'altro giorno, anche questo è un dato recentissimo, non più di una settimana fa, che nel 2017 i valori sono diminuiti, il valore medio di compravendite, quindi non è una stima, il valore medio di compravendite è sceso del 17% in un anno, io credo che sia clamoroso, però il titolo è sul numero delle compravendite, cresce il mercato e viva. Nel primo semestre credo meno 6%. Credo che dobbiamo insistere ancora sulla pressione fiscale, però sappiamo che con questa manovra accade il contrario, perché accade che l'Imo e la Tasi, cioè quella tassazione patrimoniale ordinaria che conosciamo, potrà crescere perché c'è una libertà che viene data ai comuni di aumentare l'Imo e Tasi, oltre alle dizionali, cosa che veniva non concessa negli ultimi anni, tanto che Matteo Renzi ieri ha potuto fare un tweet dicendo noi abbiamo bloccato l'aumento dei tributi locali negli ultimi anni, questo governo lo consente, cosa dicono Lega e 5 Stelle. Attendo anche io di sapere cosa dicono, ma purtroppo stanno dicendo che questo sblocco non ci deve più essere, ed è un danno perché un aumento ulteriore di tassazione in quel settore, oltre che in quello delle addizionali, quindi sul reddito è assolutamente negativo. Quindi le proposte per me, ma mi fermo perché così ascoltiamo anche, oltre al Presidente Baccarini, gli esponenti del Parlamento, le proposte sono queste, sono tante, sono tante più specifiche, sono quelle anche sulle società immobiliari che ieri abbiamo fatto al Ministro Di Maio. Bisogna capire che il problema di fondo è quello fiscale, e che si può aggredire il problema sicuramente non illudendosi di fare marcia indietro, perché le somme acquisite purtroppo, non questo governo, ma neanche qualsiasi altro governo, non me ne vogliano tutti i parlamentari presenti, io non credo che nessun altro governo possa mai far qualcosa di così netto da tornare indietro. Quindi dobbiamo piano piano tentare di ottenere piccoli interventi, piccoli o grandi interventi, affinché quel vulnus che si è creato venga a diminuire un po'. Però deve essere prima compresa l'importanza del settore immobiliare. Non lo diciamo solo noi, lo dicono anche da noi, vengono tante grandi società immobiliari ultimamente a dirci, aiutateci a far capire quanto questo settore produca al Paese. Non si riesce, ma veramente non è colpa nostra, diciamocelo questo, perché altrimenti ci sentiamo troppo in colpa. È colpa di chi non capisce, di chi non comprende, o di chi si accontenta dell'esistente e finge di non capire, a meno che poi non gli capiti qualche problema su qualche immobile specifico. E a volte le sentiamo queste storie dai parlamentari. Caro Presidente, ognuno vive con i suoi sensi di colpa. Sicuramente le aspettative delle persone, degli associati, di quelli che hanno votato i partiti, sono sempre molto alte. Aspettative, e qui mi rivolgo all'onorevole Foti, che erano un po' diverse prima del 4 marzo. Cioè, questo diciamo è un po' un governo, anzi lo possiamo asserire un governo del compromesso, no? Perché deve accogliere due parti ben distinte e voi vi trovate un po' lì, un po' da una parte e un po' dall'altra. C'è un po' di confusione sotto questo cielo. C'era una parte che voleva la flat tax, c'era una parte che voleva il reddito di cittadinanza. Sicuramente unire queste due parti non è agevole, e quindi ci vorrà un po' di tempo, ma il settore immobiliare ha dei problemi forti, le persone addirittura il fenomeno del disvalore dell'eredità. Un'asse ereditaria una volta se passava di mano era un valore. Oggi purtroppo, se chi è eredita non ha la capacità di pagare, pensate a Roma, chi ha una seconda o una terza casa, è costretto a svendere. Cosa possiamo fare noi come associazioni, voi trasversalmente, anche come osservatorio parlamentare? Come possiamo fare un percorso comune che porti a far comprendere un po' quello che sono le necessità del nostro settore? Beh, innanzitutto grazie per l'invito. Facciamo una prima considerazione. Il centrodestra ha vinto le elezioni e non è stato poi messo nelle condizioni di governare, perché non gli è stato neanche dato l'incarico per poter vedere se il Parlamento aveva i voti sufficienti per governare. Questo mi pare una riflessione di ordine politico, perché è da quello che poi nasce quello che lei ha definito il governo del compromesso. È evidente che o si ritornava alle elezioni politiche o si ritrovava una formula diversa per la quale i fratelli d'Italia, come Forza Italia, non sono stati coinvolti, però ciò nonostante, su alcuni temi abbiamo sempre detto, dove c'è un tema di interesse nazionale, noi ci siamo e ci restiamo. Devo dire che questa legge di bilancio, che era una volta una legge di stabilità, adesso doveva essere una legge molto più leggera, era una legge di bilancio, dovevano essere sette tabelle chiusa lì. Penso che ad oggi siamo a 120-130 articoli, poi ci sarà un articolo unico finale al Senato dopo l'ultima rimpolpata, con i soliti 1.500-2.000 commi da leggere tranquillamente tra Capodanno e l'Epifania, perché tradizionalmente capita questo. Ecco, sotto questo profilo io faccio due considerazioni. Sentivo prima il Presidente di Confedilizia quando riferiva del Senatore Monti. Il Senatore Monti, peraltro, secondo me, ha anche memoria cattiva, perché vorrei ricordare che, ad esempio, l'abolizione dei Lici sulla prima casa è stato il Governo Berlusconi che l'ha fatta. Non erano stati altri. E aggiungerei anche che quel Governo di centrodestra aveva nel corso degli anni eliminato, seppure parzialmente, la tassa di successione. Anche questo andrebbe detto, visto che oggi, parlavamo prima di successione, effettivamente avere un immobile, anche se non paghi, è un disastro. Perché il giorno dopo paghi l'Imu, la paghi come seconda casa, anche se togli tutte le utenze, la paghi ugualmente. Perché se uno dice, tanto non riesco a affittarla, almeno evito di pagare, luce o gas e quant'altro, tolgo le utenze, benissimo, ma l'Imu la paghi ugualmente. Non si capisce per quale ragione, per quale motivo. La pressione fiscale sul mercato immobiliare, secondo me, è sotto gli occhi di tutti. E devo dire che questa volta, se si voleva fare una scelta, la si poteva fare. Perché vi è una differenza tra le due iniziative che sono state assunte e che costano parecchio in questa legge di bilancio. Quella relativa al sistema pensionistico, devo dire che era anche nel contratto del centro-destra la possibilità di, seppure gradualmente, superare la legge Fornero. Ma sicuramente una cosa non c'era in quel contratto. il reddito di cittadinanza. Se noi avessimo messo quello che è stato messo sul reddito di cittadinanza ad abbassare la pressione fiscale immobiliare, avremmo fatto esattamente la stessa operazione sotto il profilo contabile, ma probabilmente con risultati sicuramente meno parassitari. Perché, al di là di tutto, io non penso che il reddito di cittadinanza possa rappresentare una stella polare per l'economia italiana. 10 miliardi di euro messi in diminuzione sulla pressione fiscale immobiliare, probabilmente avrebbe voluto dire una scossa. Perché poi, se noi continuiamo a parlare dei 300, 400, 500 milioni che riesci ogni tanto a muovere, non dai una scossa. Al limite recuperi l'inflazione del danno precedente. Ma, dico danno e non hanno, perché in realtà nel settore immobiliare non sono tanto gli anni, sono i danni che producono certe situazioni. Allora, a me pareva questa un'occasione felice per dire, se forse ci fossimo presentati in Europa con una manovra d'urto, anche forse superiore al 2,4%, ma che avesse dei contenuti che potevano far sperare ad una ripresa di tipo economico e quindi invertire un ciclo che invece pare essere e profilarsi sulla strada poi della recessione, beh, probabilmente avremmo avuto risposte diverse anche in ambito europeo, ma soprattutto ciò che rilevava avremmo potuto almeno avere una prova se dando una scossa il mercato reagiva o meno. oggi non abbiamo neanche questa controprova perché di fatto se il mercato reagisce lo fa molto proprio, non certo perché è stato sollecitato. L'ultima considerazione che mi permettevo di fare è questa. Non dimentichiamo che noi abbiamo anche tutto un patrimonio immobiliare che dovrebbe essere rigenerato. Anche la stabilizzazione di alcuni interventi sarebbe importante. Ad esempio, gli incentivi fiscali per quanto riguarda le ristrutturazioni e quant'altro se avessero avuto almeno una loro stabilizzazione anziché essere rinnovati di anno in anno consentivano a chi vuole intervenire di poter programmare gli interventi. Qui invece si vive ormai da quasi direi vent'anni in una situazione d'emergenza dove aspetti il primo di gennaio per sapere se hai questo o quel beneficio fiscale. Il che ovviamente non aiuta non aiuta neanche chi vuole farli gli interventi perché evidentemente è sempre una lotta contro il tempo e molto spesso uno non ritiene di arrivare in tempo per riuscire a realizzare e ottenere l'incentivo. Quindi a mio avviso l'unica cosa che si può fare perché poi tenete presente che al di là della nostra buona volontà ormai si va secondo la tradizione migliore degli ultimi 7-8 anni del Parlamento a voti di fiducia dal governo Monti in poi io penso sono stati più voti di fiducia che i voti liberamente espressi su singoli provvedimenti di una certa importanza anche questa legge di bilancio sarà condita da un voto di fiducia al Senato un successivo voto di fiducia alla Camera e poi andremo ai collegati ecco nei collegati non vedo onestamente un titolo per molto spazio da riservare al mercato immobiliare però se vi fosse la volontà e la disponibilità soprattutto dico effettiva perché se vogliamo fare qualcosa devi avere le coperture finanziarie diceva prima il Presidente Spaziani Testa che la cellulare secca su tutto il settore degli immobili ad uso commerciale avrebbe avuto una valutazione economica di circa un miliardo di euro ecco se però non parliamo di queste cifre è evidente che stiamo parlando di dettagli certo io e concludo speravo almeno che nel decreto sicurezza non si facessero dei passi indietro per quanto risguarda lo sgombero degli immobili abusivi rispetto alla vicenda e al decreto Miniti purtroppo anche in questo caso mentre riconoscevo alla circolare del Ministro Salvini molta decisione la norma poi mi sembra un ufficio complicazioni affari semplici che se va bene ti costrigge a fare un ricorso davanti al giudice civile un ricorso davanti al giudice amministrativo e quando perdiamo di un ricorso e un ricorso sappiamo che con tre gradi di giudizio ci metti tre anni o quattro anni quanto meno per avere udienza quindi sotto questo profilo penso e spero che almeno quella norma che non costa nulla dopo i primi sei mesi di applicazione quando dovesse essere monitorata possa essere modificata Katia Polidori presidente dell'osservatorio che poi si insedia la domanda è ma allora visto diciamo un po' queste due diciamo linee che si sono incrociate in questo governo e quindi è chiaro ed evidente che sia una parte che l'altra sono un po' compresse nel loro fare perché vengono da proposte e anche da idee abbastanza diverse che poi siano bravi a trovare diciamo la sintesi questo gli fa onore ma in ogni caso sono provenienze diverse in questo caso però su un settore specifico come quello del settore immobiliare del mercato immobiliare qui si potrebbe veramente trovare la sintesi tra tutte le forze politiche perché il discorso dell'osservatorio è sicuramente un punto di incontro tra politica tra varie forze politiche tra le associazioni di categoria cioè questo osservatorio lo possiamo far diventare veramente una perla nel panorama politico italiano e cercare di portare avanti un discorso che vada un po' al di là naturalmente ognuno di voi ha la propria provenienza ma guardare al risultato finale allora intanto grazie dell'invito perché finora siete voi ad avermi invitato permettetemi oggi è la prima volta che mi trovo in questa giornata davanti ad un'occasione pubblica permettetemi di ricordare un ragazzo un nostro giornalista colpito ieri sera a Strasburgo Antonio che ha 28 anni sta lottando tra la vita e la morte io sono rimasta particolarmente colpita perché ho fatto con lui campagna elettorale in Trentino Alto Adige e devo dirvi ho conosciuto non sapevo nemmeno che fosse un giornalista che lavorasse a Strasburgo io l'ho trovato così tra ragazzi tra i militanti e mi ha colpito molto purtroppo le notizie che stanno arrivando non sono assolutamente buone e quindi come dire un saluto da qua e ecco speriamo che le cose più tardi ecco che ci arrivano migliori notizie lo volevo fare perché appunto è la prima occasione pubblica che ho nella giornata allora permettimi intanto prima di risponderti di ringraziare le quattro associazioni di categoria che già nella scorsa legislatura mi avevano invitato a far parte dell'osservatorio è stato un bellissimo percorso mi dispiace che non sia arrivato credo abbia avuto un problema personale il past president diciamo così che magari vi avrebbe raccontato meglio tutto ciò che è stato già fatto nella scorsa legislatura vorrei ringraziare anche i colleghi che sono oggi a questo tavolo e tutti quelli che fanno parte del board del consiglio di amministrazione ma poi anche tutti quelli che ci uniranno perché e qui comincio a risponderti perché l'obiettivo dell'osservatorio è stato e dovrà essere quello proprio di superare di riuscire a portare un messaggio superando le posizioni legittime le posizioni legittime e reciproche di ogni partito e quindi di ogni parlamentare in realtà siamo riusciti già nella scorsa legislatura a fare un lavoro importante alcune volte l'abbiamo fatto in emergenza come succede per le leggi di stabilità come è successo per il decreto concorrenza che ci ha impegnato quasi due anni siamo se non altro riusciti anche se non qui insomma quando questo vabbè era il mio caso quando si è in opposizione non è poi così così semplice far passare un messaggio ma si è comunque riusciti a portare all'attenzione proprio con dibattito pubblico io mi ricordo quello che si fece a Milano importantissimo alla sala della borsa con una con una sala strapiena dove si riuscì a far passare dei concetti molto importanti e poi sulle gambe delle persone cioè di noi parlamentari questi concetti arrivarono arrivarono a tutti i partiti poi ci si deve rende conto che anche delle volte anche quando si è in maggioranza poi non si riesce a far quadrare la situazione noi parliamo di questo settore e da parlamentari possiamo sicuramente raccontare quante altre sollecitazioni riceviamo da tutto un insieme di settori cosa possiamo fare di certo secondo me trasmettere anche un po' di cultura io la preghiera che faccio sono contenta delle scelte che l'osservatorio ha fatto sui colleghi parlamentari che sono qua presenti delle volte credo che un minimo di cultura economica che ti spieghi come il settore immobiliare sia il settore trenante dell'economia sei fondamentale sarebbe fondamentale averla anche al governo cioè credo che già la prima pagina di un qualsiasi libro di economia anche di un bigname insomma ti racconti come un euro investito nel settore immobiliare è un moltiplicatore infinito rispetto a qualsiasi altro tipo di settore e ce lo racconta cosa? ce lo racconta la storia ce lo racconta una crisi economica che ci ha investito paurosamente nel 2008 e nonostante una tassazione che già non era di certo delle più basse ma comunque era molto più bassa rispetto ad adesso si riusciva a reggere ma poi con l'avvento della crisi economica si dice bene in periodi vacche grasse uno non si accorge se ti rubano un po' di latte ma poi quando c'è una situazione di carestia te ne rendi ben conto e questo è quello che è successo quindi la sofferenza di questo settore ha bloccato tutta l'economia nonché perso qualcosa tipo credo 800.000 posti di lavoro che insomma non sono facilmente rimpiazzabili peraltro con una perdita come succede in tutti i settori con una perdita di know-how importante una perdita di capacità importante noi eravamo al mondo forse lo siamo ancora perché i nostri tecnici poi sono andati a lavorare fuori ma insomma io sono figlia di un costruttore di un ingegnere noi eravamo veramente quelli che esportavano capacità lavorativa ovunque anche con aziende costruttrici straniere avevamo sempre i nostri tecnici che erano i primi i loro capocantieri i loro direttori lavori erano tutti italiani e anche in opere molto importanti nel senso molto difficili come le gallerie i ponti le strade e quant'altro non a caso insomma gli architetti più famosi peraltro sono quasi tutti italiani insomma è inutile che ve lo racconti quindi già riuscire a sollecitare chiunque dovesse andare ad occupare un ruolo politico ad avere un minimo di cultura generale economica generale già sarebbe secondo me un impegno che questo osservatorio dovrebbe prendersi quindi spingere i governanti a scegliere persone assolutamente qualificate e culturalmente preparate io poi capisco anche il pessimismo che ho sentito prima dal presidente Spaziani Testo ormai dopo tutti questi anni lo capisco anch'io quando lui dice io non credo che potrà mai arrivare un governo e tornare indietro su tutto io ancora ci spero dico la verità presidente volere è potere e ho visto fare delle cose pazzesche per cui secondo me uno riesce anche a tornare indietro su queste situazioni certo è che abbiamo visto anche in questa finanziaria come e devo dire al di là delle linee guida generali del governo poi tutti i partiti si sono cioè io riesco a trovare interessi trasversali su tantissimi argomenti poi è chiaro che il singolo parlamentare cioè lo può esprimere ma poi si deve adeguare all'ordine che arriva dal suo governo insomma anche nelle votazioni e quant'altro questo va da sé chi ha un minimo di pratica parlamentare si rende conto che poi questo alla fine è c'è anche una certa una certa trattativa all'interno poi del proprio partito ma non sempre si riesce ma abbiamo visto come abbiamo presentato tantissimi emendamenti che riguardano questo mondo adesso voglio dire abbiamo votato una finanziaria che in realtà non c'è nel senso abbiamo votato un qualcosa che sappiamo bene lo sapete tutti che adesso al senato verrà probabilmente completamente riscritta tant'è che io temo molto per la mia vigilia di Natale perché torna indietro il 23 mi sa che noi il 24 siamo lì e insomma la sera saremo là abbiamo lavorato anche il giorno dell'immacolata ma allora se si dovesse risolvere qualcosa venga ci perdoneranno la nostra assenza ciò che che mi preoccupa è che non mi sembra però voglio dire voglio vedere quello che succede adesso nelle commissioni non mi sembra che l'attenzione al settore immobiliare sia in qualche maniera aumentata io peraltro parlo di settore immobiliare generalissimo mi collega a tutto quello che ha detto il mio collega Foti cioè si parla non solo di costruzioni di affitti ma di tutto ciò che gira gira intorno a questo mondo ecco non abbiamo visto un grande interesse decreto sicurezza decreto tutto quello che ci può essere ci sono delle cose che gridano vendetta le aggiungo alle altre solo perché non voglio ripeterle non sono in ordine di importanza ma voi pensate cosa vuol dire per qualcuno anche solo ricevere un appartamento in eredità e sapere di non poterlo affittare perché nel momento in cui l'affitti quelle due lire che ti metti in tasca perché ormai questo è e quindi ritorniamo alla proposta insomma di una tassazione equa oltretutto se metti in casa tra virgolette le persone sbagliate persone che poi non ti pagano l'affitto persone che hanno delle difficoltà o che comunque non vogliono pagarti l'affitto perché tra le varie cose insomma ci sono anche queste situazioni tu sai bene che non sei in grado di rientrare in possesso della tua proprietà per cui la difesa della proprietà dovrebbe essere uno uno dei principi fondanti insomma per una per una qualsiasi società che si rispetti e poi cosa vuol dire il dover pagare su quell'introito che uno non ha su quell'affitto insomma che uno non ha percepito doverci pagare anche le tasse io vorrei estenderla ancora di più qui davanti c'è un libro che mi ha ispirato prima Paolo me l'ha messo qui e parla di Amatrice pensate che cos'è oggi la storia della ricostruzione in questi centri io ho seguito da vicino Norcia perché sono Umbra e sono dieci mesi che non si muove foglia prima perché colpa di nessuno voglio dire non lo so i tre mesi precedenti perché il commissario precedente tre mesi prima delle elezioni non sapendo se sarebbe stata riletta chiaramente ha detto che decisioni prendo io che poi nessuno le attua il commissario di ora perché non ha pieni poteri e quindi non riesce a decidere liberamente dalla politica fatto sta che ci sono delle persone che pagano un mutuo su una casa che non hanno cioè noi siamo in queste condizioni una casa che forse vedranno ho sentito una signora dire a Roma la scorsa settimana una signora credo proprio di Amatrice forse tra vent'anni la riavremo e sono obbligati a pagare mutui su una cosa inesistente cioè abbiamo un sistema che non tutela assolutamente né il proprietario di case né chi la vuole affittare né chi la vuole vendere né chi la vuole comprare cioè la situazione è diventata ahimè devo dire drammatica e soprattutto ha cambiato il nostro concetto di risparmio il nostro concetto di vita gli italiani erano famosi al mondo sono ancora famosi per il risparmio ma erano famosi per non tenere i soldi in banca per risparmiarli mettendo i soldi su un mattone adesso te ne guardi veramente bene perché ripeto quando uno riceve una casa adesso dici no grazie perché sei terrorizzato oltretutto dispiace anche vedere interi patrimoni familiari non più come dire non più in mano della famiglia non più gestibili svenduti perché è chiaro che piuttosto che far cadere non so una casa colonica o quanto altro a quel punto sei costretto a venderla perché non sei in grado di ristrutturarla ecco perché tutti gli incentivi di cui si parlava prima no le ristrutturazioni per non parlare poi dell'adeguamento alle classi energetiche che già la riqualificazione dei borghi ci sarebbe veramente un mondo e potremmo dar lavoro a tutti sarebbe dura all'inizio ma io anche qui sono di nuovo d'accordo con il mio collega Foti di prima coraggiosi nel senso sicuramente tutti noi vorremmo essere coraggiosi e io e chi comunque frequento nel mio partito eravamo tutti d'accordo nel dire ma sforiamolo quel 2,4 ma facciamo anche il 2,8 purché però ci sia la possibilità di dare sviluppo perché se tu fai uno sforamento con un programma di sviluppo tu sai che ti indebiti tra virgolette per parlarci chiaro però insomma nel giro di poco riesci a riportare a casa un bel po' di guadagno e sappiamo che l'unico settore che potrebbe velocemente velocemente poi ce ne sono altri ma velocemente riportarci indietro un qualcosa di solido di veramente tangibile è proprio il settore immobiliare cosa vogliamo fare con questo osservatorio io credo che più che osservatorio l'avrei chiamato si chiama osservatorio lo lascia là l'avrei chiamato il laboratorio perché effettivamente si osserviamo però dovremmo osservare riportare a casa le idee ed elaborare per poi proporle in Parlamento in realtà credo che sia una sorta di commissione permanente i parlamentari insieme all'associazione di categoria una sorta di audizione in commissione permanente perché abbiamo la possibilità di sederci con tutti i parlamentari di ogni partito parlare con tutte le associazioni che si occupano di immobiliare fare una bella raccolta di queste cose esserne convinti e tentare con i nostri partiti di riportare a casa il risultato passando secondo me Paolo attraverso quella che è la cultura di questo settore perché io sono convinta che non si sappia abbastanza e che appunto ma anche con la cultura economica economica di base proprio di base che metta l'accento su questo settore in particolar modo quindi l'impegno che oggi mi prendo io immagino insieme anche ai colleghi presenti a tutti quelli che verranno è proprio quello di tentare di utilizzare tutti i mezzi possibili anche stampa e quant'altro per arrivare poi ad un risultato se saremmo bravi forse riusciremo a convincere qualsiasi tipo di governo avvenga grazie noi una parte del governo l'abbiamo nel senso che abbiamo l'onorevole Lattini rappresentante della Lega che come dicevo prima io la vedo un po' così insomma vedo un governo naturalmente è compromesso perché è chiaro che se la Lega e gli altri partiti parlavano di flat tax su tutto è chiaro che dovendosi unire a un'altra parte è chiaro che i soldi sono pochi anzi ce ne sono pochissimi quindi dovendo rispondere ai propri elettori correttamente delle promesse fatte in campagna elettorale si è arrivati un po' a questo diciamo che è brutto dire compromesso a questo accordo diciamo perché la politica è anche l'arte dell'accordo è anche peraltro un accordo obbligato perché come diceva prima il senatore Foti se non ci fosse stato un accordo saremmo tornati a votare molto probabilmente noi avremmo potuto ancora rivotare perché la legge elettorale è sempre quella e quindi questo è il nostro destino allora il tema vero è all'interno dell'osservatorio immobiliare visto che storicamente la Lega poi peraltro è da sempre vicina a FIAI ci ha sostenuto anche in altre nella precedente legislatura sui nostri emettamenti sulle banche su tutta una serie di attività quindi sappiamo cosa pulsa nel cuore della Lega il ruolo che può svolgere questo osservatorio cioè quanto riusciremo come osservatorio tutti insieme ad essere diciamo portatori di idee nei confronti del governo che vicinanza potremmo avere al governo con le nostre proposte ma intanto grazie a tutti grazie dell'invito grazie al presidente FIAIP e a tutti gli altri presidenti delle altre associazioni saluto anch'io gli altri miei colleghi e mi fa veramente molto piacere essere oggi qui a questo tavolo a questo osservatorio anche perché io oltre diciamo a essere una parlamentare comunque sono anche figlia di un agente immobiliare e di un costruttore quindi anche io magari come l'onorevole Polidori insomma ho respirato il profumo dell'importanza comunque dell'abitazione della casa degli immobili fin da piccola quindi sono consapevole che il settore immobiliare è il grande volano comunque dell'economia italiana e diciamo che arriva quasi a ricoprire un quinto insomma del PIL quindi sicuramente io spero mi auspico metterò insomma il mio impegno affinché questo osservatorio possa fare delle proposte concrete ma soprattutto ottenere comunque dei risultati concreti ad oggi parlavamo appunto della legge di bilancio la legge di bilancio che adesso si verrà ci saranno delle modifiche al senato comunque abbiamo magari per questo settore delle notizie positive che magari verranno incrementate anche da altre come per esempio quella la misura sulla cedolare secca sugli immobili ad uso commerciale che a mio avviso è una bella proposta che comunque era già stata richiesta io per quanto mi riguarda dai territori insomma avevo sentito molto questa richiesta ma anche da voi insomma del settore immobiliare e mi sembra che adesso almeno per l'anno del 2019 questo risultato insomma possiamo dire che comunque si può concretizzare come anche la defistalizzazione comunque sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie sono state comunque riconfermate per gli interventi appunto di modifiche energetiche sugli immobili quindi qualcosa comunque l'attenzione c'è è ovvio che come dicevamo prima magari le risorse sono comunque ristrette e quindi non possiamo fare tutto subito però un segnale d'attenzione c'è stato parlavamo della flat tax adesso iniziamo da una parte comunque alla fine importante perché comunque convolge 2 milioni di persone di partite IVA e mano a mano comunque si arriverà ad estenderla alla totale cittadinanza quindi i presupposti ci sono poi è vero che magari apparentemente possono esserci comunque dei che sembra che comunque il reddito di cittadinanza sia in conflitto con la flat tax e con altre misure incentivanti però ad oggi anche il reddito di cittadinanza come è stato comunque costruito è diciamo per una platea comunque più ridotta che aiuta comunque una platea veramente di poveri e quei 780 euro che verranno dati che comunque verranno spesi e quindi comunque aiuteranno il consumo e quindi l'economia del nostro paese perché vengono dati a persone che si trovano in una soglia comunque di povertà ricordiamoci che comunque ci sono 6 milioni di poveri che comunque non è poco e quindi delle misure sicuramente per quanto riguarda la tassazione sugli immobili ci possiamo ragionare insieme comunque avremo tempo questa sarà questa spero che è una delle prime delle tante riunioni insomma di approfondimento ma oltre a mio avviso a misure dirette dobbiamo anche pensare a delle misure indirette che influenzano cioè indirettamente il settore immobiliare perché comunque se non ci sono persone che acquistano è ovvio che poi ne risente lo stesso settore quindi noi dobbiamo anche agire magari sulla natalità perché il problema anche di questo paese è che comunque non cresce di numero demografico la nostra Italia e quindi se non ci sono nuove persone è ovvio che comunque non riusciamo comunque a vendere anche nuove case quindi dobbiamo anche premere sullo sviluppo demografico ma anche sotto l'aspetto dell'incentivo comunque al lavoro stabilizzando soprattutto i lavori dei giovani perché magari in passato le famiglie avevano quell'ideale e lo scopo della vita era quello di comprarsi una casa ad oggi le nuove famiglie purtroppo non riescono ad acquistare una casa perché non hanno un lavoro stabile e con un reddito sufficiente per poter accedere comunque a un mutuo quindi si agiamo sulla tassazione degli immobili sono pienamente d'accordo però dobbiamo tenere presente questi altri aspetti che poi influenzano indirettamente ma forse sono ancora più incisivi dell'aspetto su cui appunto ci concentriamo giustamente della tassazione perché poi quando c'è lavoro c'è benessere crescono bambini crescono le famiglie è ovvio che anche il mercato immobiliare comunque riprende rinasce e ricresce ecco questa è la mia considerazione che poi purtroppo sono molto breve devo chiudere anche perché mi è arrivato adesso un messaggino che si dobbiamo votare per chiedere la fiducia e quindi ci hanno detto insomma di rientrare tutti quanti in aula e quindi già mi hanno richiamato comunque grazie e a presto avremo sicuramente un grande lavoro da fare in questi anni di legislatura e sono certo che riusciremo a trovare il coniugio tra le varie esigenze anche perché è un interesse comunque di tutti rilanciare l'economia del nostro paese e rilanciare il settore immobiliare che è molto importante quindi grazie grazie ti lasciamo questo libro Giorgia perché te ne vai questo sono 58 autori Fiaip ha partecipato alla diciamo ha acquistato tanti libri sono 58 autori e questo questo libro ricavato va alla per la ricostruzione della biblioteca di Amatrice quindi un libro che aiuta a ricostruire una biblioteca è una cosa carinissima una bellissima iniziativa poi anche io sono sensibile perché anche io provengo dalle Marche area del cratere del terremoto quindi complimenti grazie Giorgia di nuovo ci vediamo allora proseguiamo proseguiamo sulla nostra sul nostro percorso naturalmente teniamo e abbiamo un voi tanto la fiducia non la date quindi potete rimanere qui la dinamica è allora abbiamo con noi Angelo Dejano presidente di Confassociazioni che ha scritto una cosa bella bella perché fa sempre dei libri abbastanza particolari mi chiamò 5-6 anni fa per commentare il libro come guadagnare tanto in tempi di crisi allora mi chiamò e mi disse guarda vieni a fare una relazione io ho detto guarda Angelo io non lo so come si fa a guadagnare tanto in tempi di crisi se me lo dici io volevo venire ad ascoltarti ma a parte la battuta ha fatto un libro bellissimo adesso che ho letto con vero interesse è rilanciare l'Italia facendo cose semplici cosa fare perché farlo e quindi in un paese fatto di tante architetture in una struttura anche delle volte legislativa che ha varie sovrapposizioni qualcuno che ci paventi quantomeno il fatto che si possa rilanciare il paese facendo cose semplici è abbastanza no ci rende abbastanza fiduciosi sul futuro quindi Angelo il mercato immobiliare come si fa a rilanciare il mercato immobiliare facendo cose semplici dicene solo due però due due buongiorno a tutti buonasera io ringrazio l'osservatorio ricostituito sotto la presidenza dell'onorevole Polidori e ringrazio anche Paolo perché in realtà la parte sul mercato immobiliare è scritta lui perché questo è un libro piattaforma non è un libro scritto tutto da me ma ci sono dei contributi di una serie di persone competenti di confassociazioni quella parte sul mercato immobiliare l'ha scritta Paolo perché noi da tempo insieme a Confedilizia e le altre associazioni abbiamo aderito come confassociazioni immobiliari ma anche come confassociazioni sentitamente al manifesto per il rilancio del sistema immobiliare e ve lo dico io che in realtà mi occupo ormai da tempo di banca e finanza nonostante io sia un macroeconomista perché volevo fare un paio di considerazioni più strategiche sul mercato immobiliare prima di dire una cosa concreta che secondo due va come diceva Paolo cose concrete che si possono fare perché io sentivo prima l'onorevole Polidori che parlava del moltiplicatore e il moltiplicatore voi sapete che sia in questa legge di bilancio ma in tutte le leggi di bilancio investimenti privati investimenti pubblici è una cosa che molti di cui molti parlano nessuno sa come funziona bene lo sanno in tanti ma nessuno lo focalizza perché? perché chiaramente questo lo dico a beneficio di tutti ma anche mio perché chiaramente è evidente che un moltiplicatore più alto rende merito di un maggior risultato dell'investimento lo facciamo noi in finanza la performance rappresenta il moltiplicatore sul capitale che ti dà poi il risultato lordo complessivo però ci sono delle serie statistiche ci sono dei track record ci sono delle storie di successo da raccontare ve ne dico una e ve lo dico sperando che qualcuno mi registri così sono io che l'ho detto non esiste nella storia della letteratura economica che per certi versi ha capacità di previsione vicina a quella dell'astrologia e lo dico io una sicurezza più certa per fare crescita di tre cose case strade e autostrade e adesso fortunatamente anche autostrade digitali se voi andate a vedere tutti i periodi di crescita economica italiani americani le digre asiatiche il giappone vedrete che qualsiasi periodo voi prendete a riferimento e scoprite che c'è un qualcosa simile al piano casa fanfani quello della fine degli anni 50 che ha scatenato un pezzo dei favolosi anni 60 la stessa cosa succede negli Stati Uniti nella cosiddetta golden age nella golden age americana si costruiscono due cose case e highways le autostrade se voi prendete tutta la crescita quella che sembrava infinita dopo la caduta del muro di Berlino degli Stati Uniti fino al 2001 quindi sono 11 anni consecutivi di crescita e scoprite che quello che fece Clinton in quel periodo furono due cose rifare le highways e costruire le case dare una casa a tutti gli americani questo era nel programma di Clinton nel 1993 quindi questo moltiplicatore di cui si parla tanto in realtà è reale ed è un moltiplicatore bisogna dire più alto per le autostrade le autostrade hanno un moltiplicatore più alto qualcuno dice che arrivano al 2,5 non di più perché tassi sopra il 2,5 sono invenzioni faccio sempre un esempio ricordiamoci sempre che prima del 1975 il Veneto era una regione agricola e contadina quando gli è arrivata l'autostrada fine che è stata finita quasi tutta nel 1975 nei 24 anni successivi fino al 1999 è diventata la via infinita tutte case tutte industrie che si sono costruite sulle strade due nel 1999 era piena occupazione il Veneto cioè aveva un tasso di soccupazione inferiore al 3% vi sto facendo questo esempio per dirvi che il moltiplicatore in realtà c'è è un moltiplicatore importante il mercato immobiliare italiano è un mercato importante l'ultimo dato di Banca Italia lo stima con chiaramente le valutazioni 2017 a 6.300 miliardi di euro con attivi sui mercati finanziari intorno a 4.400 quindi diciamo che complessivamente l'Italia ha 10.700 miliardi di euro di patrimonio quindi una cosa importante la terza ricchezza privata del mondo dopo Australia e Belgio il problema è che quella ricchezza da una parte lo sentivo prima inchiodata sui depositi bancari e dall'altra è illiquida nel sistema immobiliare allora il tema è possiamo costruire nuove case io ieri stavo con il presidente Spaziani Testa al tavolo del Mise e ho sentito l'appello del Lance che è un appello addirittura hanno chiesto di aprire un tavolo di crisi ma la domanda è possiamo costruire ancora più case sì forse un piano di edilizia probabilmente popolare si potrebbe anche fare però il problema è che questo paese ha un tasso di proprietà della casa altissimo è un mercato maturo quindi un mercato maturo è difficile da accelerare è difficile anche perché abbiamo la legge sul consumo del suolo abbiamo tante cose che in realtà bloccano questo sistema e soprattutto abbiamo ma lo vorrei toccare rapidamente dopo il tema della tassazione anzi lo tocco subito perché noi in realtà abbiamo una patrimoniale continua e ce l'abbiamo sia sugli immobili che sulle rendite finanziarie continua perché non è che c'è stata fatta una sola volta vi ricordate il famoso prelievo di Amato del 1993 ma perché noi paghiamo tutti gli anni sul patrimonio sia su quello immobiliare che su quello liquido una serie di imposte e non solo ma paghiamo pure l'imposta di registro sulle compravendite quindi il sistema che cosa ha fatto molto semplicemente ma non è che lo dico io io ho tanti amici per esempio al MEF è chiaro che la ricchezza finanziaria per quanto adesso faccia fatica a sfuggire però è più fluida si muove le case stanno lì è molto più facile mettere la fish delle tasse sulle case non si muovono sono mediamente quasi tutte accatastate quindi tu hai una mappa reale e credibile e quindi puoi andare a verificare immediatamente i saldi di bilancio anche questo ce lo dobbiamo dire chiaramente quando ci rapportiamo all'Europa quando ci rapportiamo a tutti i più e i meno su deficit e debito su cui dobbiamo ragionare quindi detto questo secondo me qualcosa si potrebbe fare pure sul tema della tassazione perché abbattere alcune fra virgolette tasse io abbatterei adesso Presidente Spaziani Testa non so se sarà d'accordo ma io abbatterei subito l'imposta di registro cioè quello è un sistema che in ogni rete è importante levare le dogane l'imposta di registro è come un confine tu la paghi a prescindere dal desiderio e dall'incontro di domande e offerta la paghi perché devi pagare lì così come un'altra cosa importante ma questa è una mia battaglia con il notariato dal 2006 forse io per il rogito che tanto diventerà fra virgolette prima o poi obsoleto sarà la pupilla piuttosto che la blockchain io sul rogito farei un prezzo fra virgolette politico soprattutto se si tratta di prima casa per abbattere i costi di circolazione tanto per provare a dare un contributo su questo però credo che la cosa più importante adesso io non entro nel merito delle misure del manifesto che sono tutte state condivise prima ne parlavamo a Milano il 25 novembre dell'anno scorso lo ricordava l'onorevole Politori io vorrei provare a fare due riflessioni secche la prima se non è possibile costruire tante case di più bisogna trovare il sistema di valorizzare quelle che ci stanno sicuramente il tema della tassazione è importante ma è anche vero che se c'è una ricchezza così importante va resa liquida una delle proposte che io faccio nel libro è quella per cui siccome al mondo dopo i tanti cui della Fed della Banca Centrale Europea della Bank of England della Bank of Japan c'è un mare di liquidità immenso immenso che non trova rendimenti perché il mercato di quest'anno sia azionario che obbligazionario è quello che è ma in realtà siccome veniamo da un'era di tassi zero trovare un rendimento è difficile per i capitali non è semplice allora cercare di costruire un fondo con garanzia statale abbiamo dato la GAX cioè la garanzia statale su tutti gli MPL di quasi tutte le banche lo potremmo dare a un confondo del genere guidato dalla CDP cioè un sistema di coinvestimento anche di questo ne abbiamo parlato ieri a proposito del rifinanziamento del sistema delle piccole e medie imprese un fondo che vada stabilendo dei criteri da una serie di soggetti e che compri sopra i 40 anni sopra i 45 la nuda proprietà dell'appartamento dando liquidità al sistema che in realtà non è tanto diverso se voi ci pensate a quello che gli americani hanno sempre fatto con il loro sistema immobiliare le banche tutta la crisi dei subprime nasce dal fatto che le banche rendono cash liquido il sistema immobiliare le case prestando soldi ai consumatori americani in relazione all'aumento o alla diminuzione come è successo dal 2008 in poi del valore delle case con regole chiaramente serie perché gli americani sapete che il tema non è mai lo strumento è sempre come viene usato quello era uno strumento che loro usavano da 40 anni non aveva mai dato problemi poi nel 2008 gli ha dato tanti problemi ma non è lo strumento che era sbagliato è il fatto che tutti quei mutui e quindi quei finanziamenti sono stati impacchettati in due tre senza che vi annoio con la parte tecnica ulteriore matriosche ed è chiaro che nessuno sapeva più cosa c'era dentro e quindi quando è iniziata un po' di crisi la gente non sapeva più che scartare dentro trovava poco rispetto a quello che gli avevano promesso però questo fondo potrebbe raccogliere a mio parere a mio parere qualcosa come 40-50 miliardi di euro di dollari uguale sul mercato internazionale farlo arrivare qui e cominciare a fare un lavoro con l'aiuto delle agenzie immobiliari con l'aiuto di tutte le reti che possono essere messe a sistema pensate altro che 80 euro di renzi a dare 50 miliardi di euro di liquidità a questo paese con una serie di persone che hanno fatto il mutuo trentennale nel 2006 che sono magari andate in crisi nel 2008 e che hanno contratto tutti i consumi perché chiaramente volevano continuare a tenere la casa anche perché le quotazioni si erano abbassate e quindi hanno contratto tutti gli altri di consumi questa è secondo me una misura che si può fare ed è semplice perché in realtà le condizioni sui mercati internazionali se chiaramente c'è la GAX se chiaramente c'è la fische della CDP se chiaramente si mettono a sistema tutte le reti ci vorrebbe poco e guardate che tra l'altro questa era una cosa di cui avevo parlato anche a Milano l'anno scorso prima di metterla nel libro nel frattempo chiaramente uno fa del fine tuning cioè uno approfondisce l'idea è quella di dare un tasso di rendimento perché poi chiaramente non è che tu gli rubi la casa alla famiglia o al coso poi se la puoi ricomprare al momento dell'evento luttuoso lo possono ricomprare gli eredi a un prezzo che chiaramente deve essere di mercato scontando un minimo di anticipo ma se voi ci pensate un fondo del genere potrebbe dare il 5,5% di rendimento annuo sia con il rientro di cose che succedono annualmente sia con l'eventuale allineamento dei diversi prezzi delle case stesse prima o poi ricominceranno a salire giusto? e quindi se il mercato è piatto adesso fra 10 anni perché quella è un'operazione che deve durare 20 anni non è che deve durare 6 mesi fra 20 anni saranno ipoteticamente più alti quindi il rendimento è assicurato per questo che i capitali internazionali sarebbero disponibili perché non sono stupidi la seconda cosa ho finito è quella di valorizzare il sistema immobiliare c'è scritto già nel manifesto attraverso il tema del turismo ora io mi chiedo ma perché noi e questa è un'altra delle cose che ci sono scritte nel libro ma perché noi non ci siamo fatti un booking.com italiano dove si possa fare considerate che booking guadagna mediamente fra il 18 e il 20% di quello che pagano i diversi clienti rispetto all'offerta di alberghi o adesso di alloggi turistici quel 18 20% potrebbe benissimo alimentare a una piattaforma digitale b riandare ai possessori di casa valorizzando il sistema turistico a rete soprattutto dei piccoli paesi e via dicendo ci potrebbe chiaramente essere un minimo di sconto in meno per il cliente finale ma il cliente finale quel 20% non lo vede proprio non lo sa che c'è quando prendete una camera a 100 euro l'albergo sostanzialmente c'aveva come tariffa 120 80 scusate il contrario quindi anche lì secondo me non è che ci vogliono grandi cose c'è bisogno di avere consapevolezza c'è bisogno io credo che l'osservatorio possa essere un grande laboratorio di idee e di proposte e soprattutto secondo me in questo momento credo che sia necessario fare questo sforzo fare questo rassemblamante un tempo si sarebbe chiamato proprio perché il tema è che noi siamo bravissimi come dice Warren Buffett che è un grande uomo di finanza ma anche un grande uomo di economia reale noi siamo bravissimi a predire il diluvio dice Warren Buffett bravi però il predire il diluvio è fuffa la cosa veramente importante è costruire l'arca grazie 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 Angelo sempre idee abbastanza sul pezzo e sempre abbastanza futuristiche nel senso che se voi ci pensate anche sulla tua prima proposta il governo italiano tempo fa ha fatto l'ape sociale quindi chi deve andare in pensione può chiedere un anticipo della pensione facendo un prestito pagando che deve restituire tutte queste cose perché abbiamo le famiglie italiane che ormai mantengono figli nipoti e quant'altro allora ridare liquidità con la vendita e la nuova proprietà e riuscire quindi a finanziare in maniera sana le famiglie e il mercato sarebbe un'opportunità che sarebbe assolutamente da cogliere e in cui adesso arriviamo a Giambattista gli agenti immobiliari sono al centro della filiera quindi un ruolo importante sono il crocevia tra chi acquista tra chi vende sono consulenti sono sono un po' il luogo in cui chi vuole lavorare sugli immobili si ritrova e quindi cosa possiamo proporre cosa cosa vogliamo fare di questo osservatorio e più in generale la nostra categoria cosa può rappresentare all'interno grazie a FIAIP all'interno dell'osservatorio noi abbiamo presentato un nostro documento qualche mese fa con delle proposte sul settore della nostra categoria una riguardava l'ampliamento delle compatibilità e ci stiamo lavorando diciamo concretamente ne parlavamo prima l'altra se ricordate noi abbiamo presentato un emendamento l'anno scorso che è stato quasi recepito cioè non è stato recepito ma quasi è stato segnalato ed è arrivato fino quasi diciamo così alla fine di tutto il percorso poi il vice ministro Morando ricordo disse che non era recepibile perché l'evasione fiscale si combatte dall'interno e non dall'esterno che è una di quelle frasi che cosa significa cosa non significa ed era quello relativo al fatto che noi chiediamo e chiediamo e riproponiamo il fatto che il notaio sia obbligato a identificare tutte le persone presenti nell'atto pubblico e stipula quindi non solo ovviamente le parti contraenti e noi agenti immobiliari ma anche se c'è l'abusivo il fornaio il macellaio piuttosto che il commercialista l'avvocato chi per lui insomma la figura che non è diciamo così regolarmente iscritta ai ruoli di modo che il notaio poi fosse obbligato a indicare e denunciare non solo all'agenzia delle entrate ma anche alla camera di commercio che l'organo è dedicato che questa figura era presente alla stipula e abbiamo fatto un conteggio cioè circa un 28% disintermediato o meglio intermediato abusivamente su circa 550.000 compravendite ce ne sono 150.000 dove appunto vengono intermediate con abusivi facendo una media ma stando bassi di 100.000 euro a transazione con un 5% di provvigione quindi 5.000 euro per 150.000 fa 750 milioni di imponibile che sfugge all'erario perché questo è una parte appunto che fiscalmente non entra nelle casse dello Stato quindi era stato costruito ed è stato costruito affinché io dico con il principio di buon senso non comporta un costo in più quindi un peso un gravame dal punto di vista del gettito ma anzi semmai porta delle entrate per l'erario quindi questo emendamento è una cosa che abbiamo riproposto anche in sede di legge e di bilancio ma prima voglio riallacciare il ragionamento prima il presidente Spaziani Testa parlava di fiscalità ovviamente che è un tema noi caro perché chiaramente c'è un peso enorme ne parlava anche il presidente Dejana lo stesso Foti e anche l'onorevole Polidori ma semplicità ecco a me quel libro l'ho letto anch'io e devo dire che è semplicità c'è una parola che già sentirla nominare cioè noi come operatori quante burocrazie oneri addempimenti obblighi abbiamo e quindi pensieri la semplicità fare cose semplici io dico di buon senso magari poche poche però che abbiano una ricaduta pratica operativa immediata noi abbiamo bisogno di questo perché se non abbiamo questo non abbiamo la fiducia e se non abbiamo la fiducia chi valuta o vuole valutare di comprare o vendere casa non lo fa perché è la fiducia che ci spinge a muoverci ma in tutto nella vita al di là del settore immobiliare quindi la semplicità due cose semplici semplici per esempio noi paghiamo i tributi locali ok bisogna pagarli perché i comuni piangono bene consentire la deduzione dei tributi locali dalla dichiarazione dei redditi nell'anno successivo consente subito il gettito immediato per le amministrazioni comunali per dare i servizi reali e poi c'è un recupero per chi per chi li paga in quel momento sapendo che poi li andrà a recuperare quindi è una piccola spinta di fiducia che può portare ad agevolare il settore secondo ci sono i benefici prima casa per fortuna però attenzione che le prime case stanno calando proprio un report del notariato qualche giorno fa ci dice che dal 2016 al 2017 c'è stato un meno 4,5% di acquisto prima casa sapete che il mercato va nell'ambito delle locazioni sta spostando fortemente sulle locazioni questo non vorrà dire che le compravendite caleranno tanto poco no perché poi chi va in affitto cioè ci vuole uno che compri la casa e la dia in affitto quindi magari aumenteranno le seconde case bene il settore commerciale sta piangendo se il settore edilizio residenziale ha patito tanto quello commerciale dieci volte di più bene benefici prima casa perché non proponiamo benefici prima sede cioè noi abbiamo la prima casa giustamente c'è un principio anche sociale se vogliamo sulla casa il tetto sopra la testa ma se noi non abbiamo un'agevolazione fiscale nell'acquistare l'ufficio il laboratorio il capannone se non abbiamo il lavoro non ci compiamo la casa non cresciamo i nostri figli e quindi se ci fosse una spinta di agevolare il settore l'ho chiamata così ma si può chiamare in qualunque modo cioè agevolare fiscalmente l'acquisto del terziario forse andremmo anzi probabilmente anzi sicuramente a dare una spinta una spinta all'acquisto di un settore che è il terziario che ripeto è decisamente in grande sofferenza perché poi a noi cos'è che ci è mancato in questi anni l'investitore che ha comprato la seconda casa e tutto il terziario tutto il settore produttivo ecco perché è importante la flat tax cioè le tasse piatte chiare se abbiamo una reddittività chiara una fiscalità certa uno investe con più con più voglia con più intenzione perché chiaramente se io non so quei denari lì quanto mi rendono faccio fatica a farlo quindi io penso che le idee ci sono già parlando oggi qualche idea in più è emersa l'osservatorio è giustamente stato denominato il laboratorio un laboratorio di idee di iniziative cose giustissime ma l'obiettivo principale sarà sensibilizzare l'azione legislativa affinché incentivi la crescita del settore immobiliare che abbiamo detto tutti che è il settore più importante a livello economico ma anche sociale l'altro giorno guardavo siamo il paese con la più alta percentuale al mondo di proprietari di abitazione principale già questo ci denota quindi un laboratorio sì per incentivare la crescita del settore ma anche per valorizzare le professionalità di tutti gli operatori che operano appunto nel settore immobiliare grazie abbiamo qui con noi anche Stefano il professor Stefano Cianciotta che vedevo eccolo qua collaboratore del foglio presidente delle infrastrutture dell'osservatorio sulle infrastrutture di confassociazioni per allora ci auguriamo un buon lavoro a vicenda nell'osservatorio un applauso per l'onorevole Pochi Stefano brevemente le infrastrutture questo paese da Genova dal ponte dai crolli che ci sono stati le varie diciamo le varie inondazioni morti cadaveri un territorio che vi è stato vi dipeso nel tempo e qui poi bisognerebbe aprire una forte riflessione anche sui consorzi di bonifica e sulle e questo sarà un tema di cui parleremo nell'osservatorio e sulla loro riforma perché specificatamente i consorzi di bonifica devono governare il territorio e a quanto pare invece fanno altro e le infrastrutture come possono incidere sulla crescita del PIL e soprattutto sul mercato immobiliare sulla valorizzazione del patrimonio che abbiamo ma do soltanto un dato che secondo me fa il paio anche con i numeri che avete ricordato perché negli ultimi dieci anni il settore delle costruzioni non solo ha perso 85 miliardi di euro complessivi di cui 60 miliardi provenienti dal mondo privato che ha scelto più di non più di investire nel nostro paese ma ha perso 600 mila posti di lavoro 600 mila posti di lavoro sono un numero altissimo che in un contesto di aziende molto piccole non ha quella notiziabilità che per esempio ha avuto giustamente in questi ultimi mesi il caso dell'ILVA che ha 14 mila 500 addetti e che in qualche modo rappresenta l'economia non solo del territorio della provincia di Taranto ma di una parte importante del settore siderurgico europeo quindi come si è fatta quella battaglia per mantenere un hub strategico perché avere in pancia un hub siderurgico per un paese è assolutamente fondamentale io credo che vada e lo abbiamo detto due mesi fa quando abbiamo presentato in Parlamento con il Presidente Deiana il rapporto sulle infrastrutture vada modificata la percezione delle infrastrutture del nostro paese perché da 25 anni in poi da Tangentopoli ad oggi il tema vero purtroppo sul quale si lega la percezione delle infrastrutture è ancora troppo ancorato al tema della corruzione al contrario invece le infrastrutture se non tornano ad essere percepite come leva dello sviluppo che Angelo Deiana l'ha ricordato benissimo difficilmente riescono a coniugarsi a un elemento strategico che fa certamente la differenza e in questi 25 anni non parliamo più di infrastrutture fisiche ma ormai come dire c'è tutto il tema dell'infrastruttura digitale della digitalizzazione recentemente si è parlato appunto della gara del 5G anche nel nostro paese che in qualche modo come dire farà fare un salto di qualità all'Italia quindi da una parte secondo me all'interno dell'osservatorio sul mercato immobiliare non considerare il tema delle infrastrutture sarebbe in qualche modo anche come dire parcellizzare il valore dell'immobiliare perché secondo me è un osservatorio pregevole come questo di cui oggi si sta discutendo debba necessariamente includere anche il valore delle infrastrutture anche per cominciare a riragionare nel nostro paese di un settore strategico complessivo perché secondo me è un altro dei grandi problemi che in qualche modo ha agevolato il rapporto della politica con il mondo delle costruzioni e che per troppi decenni ci si è presentati in modo parcellizzato cioè Lancia rivendicava alcune cose il mondo immobiliare ne rivendicava un altro secondo me invece è il comparto che complessivamente determina un asset strategico del PIL del nostro paese che ovviamente ha degli effetti positivi prima lo ricordava Angelo Deiana anche per esempio sul turismo perché manutenere diventa anche un elemento indispensabile non solo per conservare e per trasferire in modo mirabile la proprietà ma anche per aumentare il livello di reputazione io quando ho partecipato dopo il caso di Genova a diverse trasmissioni televisive l'ho scritto anche sul foglio sul Sole 24 ho detto l'Italia sta di fatto determinando una discussione surreale cioè questa dicotomia tra l'abbattimento delle opere in essere incarnate nel ponte Morandi e di tutto quello che Morandi aveva realizzato in quegli anni e la necessità di realizzare delle opere nuove determinano una dicotomia che secondo me non ha motivo di esistere perché il Paese dovrebbe puntare sull'abbattimento e la ricostruzione probabilmente avere il coraggio anche di chiedere all'UNESCO di salvaguardare quelle opere realizzate da Morandi perché ci sono dei ponti di straordinaria bellezza che hanno rappresentato anche un patrimonio in termini di innovazione tecnologica quello che ha detto l'onorevole Tampolidori secondo me è importante e in questo momento il Paese che conserva una grande tradizione in termini know-how non solo continua a esportarlo ma non riesce più a farlo manutenere e lavorare nel nostro Paese considerate che Salini in pregillo che è la prima impresa di costruzione italiana che compare nella top ten internazionale fa nel nostro Paese soltanto l'8% del suo fatturato imprese competitor di in pregillo come la Octif tedesca ma anche per esempio la svedese Scanska arrivano a percentuali che stanno intorno al 40-50% quindi evitiamo dicotomie che non hanno senso non solo bisogna conservare il patrimonio ma bisogna realizzare nuove infrastrutture perché soltanto realizzando nuove infrastrutture c'è tutto il tema della portualità che per esempio Angelo Dejana ha affrontato nel testo su quale abbiamo discusso moltissimo in relazione proprio al tema delle zone economiche speciali si parla molto di Via della Seda di questo contributo che il Mediterraneo potrebbe dare alla rigenerazione economica di questa grande area che storicamente ha sempre rappresentato un incrocio e un incontro di civiltà beh i cinesi hanno capito che dopo aver aggredito tra virgolette il centro Africa tutte le questioni del Nord Africa penso ad esempio alle questioni libiche le stanno bypassando facendo accordi con i Balcani mettendo in contatto il porto di Venezia con il porto di Pireo che di fatto l'Europa in modo secondo me poco intelligente ha svenduto qualche anno fa perché poi il problema è che quello che sta accadendo negli asset immobiliari prima era avvenuto in quelle che fondamentalmente a livello storico sono le piattaforme l'Europa purtroppo ha svenduto le sue piattaforme e quindi sostanzialmente ci ritroviamo che un Mediterraneo che in questo momento storico quello che diceva Tediana secondo me è giusto cioè l'Europa che sta all'interno di questa grande faglia tra un est del mondo che produce oltre il 50% del PIL e l'ovest che in qualche modo vuole ricollocarsi beh noi che geograficamente storicamente abbiamo una posizione di vantaggio sostanzialmente la stiamo rendendo marginale la stiamo rendendo marginale perché il tema purtroppo delle infrastrutture e anche delle politiche a sostegno le zone economiche speciali sono un tema strategico fondamentale di cui però in Italia si discuse da oltre 20 anni la Polonia non solo ne ha 14 ma adesso ha proposto all'Europa di diventare complessivamente zona economica speciale e mentre 30 anni fa le imprese occidentali andavano a produrre all'est perché il costo del lavoro era basso adesso vanno a produrre perché non solo hanno agevolazioni fiscali ma c'è un know-how in termini di competenze che ormai è cresciuto notevolmente e quindi il livello di qualità della manifattura si è assolutamente equiparato quindi non solo più infrastrutture ma secondo me e questa è la sfida che l'osservatorio può lanciare cercare di mettere davvero all'interno di questo grande contenitore tutto quello che questo asset strategico ha significato e deve significare ancora per il Paese perché è chiaro che ragionare di immobiliare soltanto parlando di valorizzazione dell'asset delle case giusto per semplificare un mercato maturo come si diceva a poc'anzi significa in qualche modo sedersi ai tavoli di negoziazione avendo rinunciato a una parte significativa della interlocuzione io credo che invece il settore è strategico proprio perché ha rappresentato da sempre una nervatura significativa dell'economia italiana che ha sviluppato anche attraverso le università italiane che sono riconosciute sotto questo profilo tra le migliori al mondo una capacità di innovazione tecnologica straordinaria si parla tanto di innovazione di 4.0 io non capisco perché il 4.0 debba essere relegato tra virgolette all'industria e non inserire questi settori all'interno delle innovazioni dei processi e questa è la sfida che secondo me attende l'osservatorio perché se riesce a cogliere questa opportunità diventa uno strumento di lavoro e si trasforma in laboratorio se deve fare il monitoraggio di quello che accade rischia di diventare un OMI 2.0 che credo serva davvero poco al settore grazie Presidente Baccarini hai ultimamente riallacciato dei rapporti basati su nuove attività con le associazioni consumeristiche in particolar modo con la di Consum perché come dici sempre questa federazione la tua federazione segue diciamo quello che è il rapporto con i consumatori volendo mettere al centro i consumatori cosa ci dici la politica come sappiamo della federazione è cercare di spostare l'asse dall'agente immobiliare che ovviamente è la nostra figura centrale ma conosciamo bene tutti gli ambiti al cliente quindi la sfida sarà anche poi creare lo sappiamo il prossimo anno un portale che parli alla comunità al cittadino la campagna di comunicazione è rivolta al cittadino l'abbiamo vista in evoluzione prima quindi parliamo a chi deve decidere di comprare o vendere un immobile o affettarlo e quindi chi meglio dell'associazione dei consumatori e in particolare con adconsum che ricorderete abbiamo avuto con loro una partnership molto importante qualche anno fa con tutta la modulistica di media consum quindi lente bilaterale poi c'è stato un cambio del board anche di adconsum abbiamo riallacciato i rapporti anche perché io dico anche e soprattutto in relazione al progetto che abbiamo federativo una fiai perché è il progetto che ha l'obiettivo di immettere sul mercato tutti gli immobili preventivamente controllati e ha un valore congruo cioè un valore indicato da noi ovviamente agenti immobiliari per fare questo ci vuole necessità una modulistica dedicata a cui abbiamo lavorato oramai da quasi un anno che è pronta e con adconsum abbiamo stretto proprio in questi giorni l'accordo proprio per far sì che in questa piattaforma l'immobile fuoriesca con la bollinatura anche e soprattutto di adconsum affinché è sull'immobile certificato a garanzia tutela dell'utente quindi io chiamo sul palco il rappresentante di adconsum per dirci due parole al riguardo e lo ringrazio per essere venuto qui con noi buonasera grazie 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 presidente noi raccogliamo l'ennesima volta questa sfida ci piace dare rating ci piace partecipare alla alla redazione di quelli che sono i requisiti e le maglie dei giudizi più trasparenti possibili e per quello ci siamo prestati ancora una volta a stringere un accordo con voi su che cosa tra l'altro sulla cosa più importante della vita del cittadino dell'essere umano prima di venire qua riflettevo un po' quanto era importante realmente la casa per ognuno di noi e è talmente tanto importante che osservavo mia figlia in questi giorni le prime cose che disegniamo con che cosa sono se ci pensate le casette le casette le casette con tra l'altro le finestrelle la porticina la ciminiera del camino che esce è talmente tanto importante che dall'inizio della nostra storia umana che noi abbiamo iniziato esclusivamente prima a cercare una casa dove creare una comunità e poi tutto il resto in realtà in questi anni anche noi ci siamo accorti che qualcuno si è dimenticato soprattutto la politica quanto la politica per la casa sia l'elemento centrale della vita umana e in questi giorni infatti ci siamo accorti che uno dei pochi strumenti infatti invito la politica a cercare di recuperarlo che era il famoso strumento per il sostegno all'acquisto della prima casa del mutuo prima casa c'erano già pochissimi soldi in dotazione sopra quei soldi sono completamente esauriti e nessuno ha pensato nemmeno di rifinanziarlo abbiamo scritto al ministro dell'economia Tria in questi giorni cogliamo l'occasione in questo luogo anche di chiedere anche a voi di eventualmente di spingerlo perché era uno strumento talmente così semplice ma incredibilmente utilizzato che generava un volume addirittura di 4 miliardi e mezzo con una dotazione bassissima di solo e permetteva di fare quello che oggi in realtà ha bisogno l'acquirente di una casa avere delle coperture a garanzia visto che le garanzie oggi sono sempre più misere perché chi ha un contratto non tutelato e non tutelabile e che non ti dà la possibilità di farti garanzia da una banca ha bisogno di qualcuno che gliele dia quindi abbiamo scritto a Tria in questi giorni abbiamo provato anche eventualmente a far presente che c'era spazio ancora nel DEF per rinfilare la possibilità di rifinanziare questo strumento ci accontenteremo anche solo di rifinanziarlo con la dotazione che c'era prima c'erano 50 milioni se non sbaglio magari se ci date una mano come noi siamo così non lo so è una domanda che sono molti no non se ne è curato nessuno di presentare l'emendamento è stato quello che ci ha spinto a scrivere al Ministro dell'Economia perché abbiamo fatto un endorsement sui vari parlamentari nessuno pareva interessato in quel momento e quindi abbiamo scritto al Ministro per dire vedete intanto lo abbiamo allertato abbiamo detto che sono finiti i soldi e quindi rimetterci quel poco scusa se erano finiti i soldi secondo me lo sapeva già senza bisogno che tu gli scrivessi no ma erano soltanto 50 milioni quindi ci siamo meravigliati che per 50 milioni non si siano trovati comunque la nostra disponibilità nel nel risottoscrivere questo accordo è centrale per il semplice fatto anche perché sappiamo che sono cambiati completamente i paradigmi dell'accesso e l'acquisto alla prima casa tutti sapete che stiamo entrando addirittura nell'era dello spazio al web è stata annunciata qualche giorno fa che sarebbe l'era di fusione tra la realtà e la virtualità attraverso alcuni strumenti che sostituiranno probabilmente anche i devices tradizionali i telefonini i tablet e quant'altro ci accingiamo a entrare in un'era in cui possiamo vedere immaginare addirittura la nostra casa semplicemente mettendoci sugli occhi un dispositivo questo ci dovrà completamente trovare uniti tra consumatori e operatori professionali del settore quindi con questo progetto cercheremo di spingerci anche un po' più avanti sul futuro non dico addirittura da visionari totali di interpretarlo ma cercare in qualche modo di immaginarlo grazie a voi per l'invito grazie grazie come vedete anche il fatto da qui si capisce bene l'utilità di avere un luogo di confronto altrimenti ognuno presenta il proprio emendamento e si chiede il perché come Adconsum come Fiaivo come altri mille associazioni avranno scritto il loro emendamento quindi la necessità di fare sintesi è fondamentale diciamo subito che un'ultima domanda per prima di passare ad altro per il Presidente di Confedilizia il tema è quanto l'unione tra le varie associazioni quanto questa visione comune diciamo di questo mercato potrà incidere effettivamente te la traduco secondo a tuo parere questo osservatorio potrà veramente portare dei benefici cercherà sicuramente di fare delle cose ma come potremmo incidere effettivamente su quelle che sono le politiche diciamo cose perché perché storicamente se scendono in piazza i sindacati o se scendono in piazza altre categorie ci sono le sale piene le categorie che noi rappresentiamo molte volte scrivono si lamentano e fanno di tutto poi quando sono chiamati alle armi usano quel famoso detto armate vie partite perché tutti tutti hanno da stipulare tutti hanno da lavorare e quindi questa cosa viene poco sentita come vedi tu questo benoglio intanto bisogna vedere come riempiono quelle sale perché magari proprio perché non hanno da lavorare hanno il sussidio diciamo per andare lo sappiamo che è avvenuto spesso così quindi però è anche vero che molti si lamentano e poi non agiscono però al di là delle manifestazioni di piazza o di altro tipo credo l'osservatorio per rispondere alla domanda sia utile sia per mettere insieme più associazioni e far loro dire qualcosa di comune senza illudersi di avere unità totale perché abbiamo già sperimentato che non si può avere non perché ognuno sia geloso di qualcosa ma perché comunque ci sono organizzazioni individualità situazioni diverse e quindi questo non si può realizzare ma però si può realizzare diciamo una migliore sintesi del pensiero di ciascuna associazione però quello che si può fare in più attraverso l'osservatorio è l'attività di studio e di approfondimento di cui parlava l'onorevole Polidori cioè l'onorevole Polidori prima parlava della possibilità di far conoscere di più agli stessi parlamentari dei temi di interesse del nostro settore e anche i contenuti perché molti non sanno al di là del dolo al di là di chi le cose non le vuole capire c'è anche chi non le conosce quindi quello che diceva l'onorevole Polidori prima credo vada ripreso e sottolineato cioè l'osservatorio può essere oltre ripeto a luogo di sintesi fra contenuti di associazioni anche luogo di approfondimento di temi da far conoscere poi le scelte saranno varie diverse magari nessuna o anche contrarie a noi però possiamo produrre dei contenuti da far conoscere a tutti i parlamentari perché e al governo naturalmente perché in molti casi proprio non c'è conoscenza delle questioni non c'è conoscenza dell'importanza del settore ma non c'è conoscenza anche delle cose più basilari io facevo prima l'esempio della tassazione sulla prima casa che non è solo una questione ideologica cioè è politica elettorale quindi è facile dire occupiamoci della proprietà di prima casa perché è quella che riguarda più elettori ma è anche questione di non conoscenza cioè se uno intervista adesso i 900 erotti parlamentari italiani chiede l'Imu c'è o non c'è molti diranno non c'è perché pensano alla prima casa perché di questo poi si tratta quindi si può sfruttare l'osservatorio per approfondire con i contributi nostri di Fiaip e degli altri di chi ci vorrà accompagnare approfondire dei temi non dare necessariamente delle tesi ma anche dare dei dati dei numeri sul mercato su quello che accade anche i numeri sui valori immobiliari perché io torno su quello che dicevo prima se ecco la giornalista dell'ANSA è andata via quindi lo posso dire ma ovviamente non è contro loro quando viene fuori il dato dell'agenzia di entrate o del notariato che dice aumentano le compravendite è rientrato qualcuno ma non è colpa loro perché sono presentati in un certo modo i dati se esce insieme il dato dell'aumento del numero di compravendite e dell'ennesimo calo dei valori nel titolo va all'aumento del numero di compravendite e non il calo dei valori perché non lo so non lo so perché bisogna chiederlo a chi fa comunicazione quindi noi dobbiamo dare dei dati non i dati negativi per essere negativi per forza ma dare i dati anche a quelli che non emergono quello di oggi per esempio della Confesercenti non so quanto sarà diffuso domani 50.000 negozi sfitti in più in 4 anni non lo so perché l'hanno dato insieme ad altri numeri non lo so quanto sarà diffuso credo poco perché questo poi avviene ma dobbiamo dire anche i dati positivi cioè quanto sul PIL magari spendendo qualche soldo insieme quanto sul PIL incide tutto il mondo dell'immobiliare senza dare i numeri a caso ma concretamente dicendo gli agenti immobiliari producono questo le società immobiliari producono quest'altro l'allocazione produce questo quindi dare una serie di numeri credo potrà essere utile a tutti i parlamentari per poi fare scelte un po' più oculate rispetto a quelle del passato ero al telefono prima non per maleducazione ma perché per maleducazione ma perché rispondevo a Giorgia Meloni che ha avuto un impegno nell'ultimo momento e si di Chiambretti è di alto e non è riuscita e non riesce a venire cioè arriverebbe alle 7 ma noi diciamo che siamo abbastanza esausti della giornata lunga cosa dite voi quindi concludendo poi lasciamo le conclusioni al nuovo presidente dell'osservatorio parlamentare concludendo diciamo che oggi è stata una giornata di cui poi le riprese verranno rimontate e mandate un po' in giro anche perché mi sembra necessario che si comprenda che la normativa europea e la modifica dell'articolo 39-89 è veramente una grande opportunità è un fatto epocale per questa per questa federazione ma soprattutto per la federazione e io ritengo per l'intero comparto penso anche che tutti noi tutti quelli che partecipano a questo nuovo mondo parliamo sempre di 4.0 parliamo sempre di innovazione debbano e abbiano il dovere di promuovere questa queste opportunità che ci sono il fatto di ritornare al passato o di cercare un passato che non esiste è controproducente e non sfruttare le opportunità che il mercato ci dà ci porrà e ci potrebbe porre fuori dal mercato noi dobbiamo stare sul mercato essere aderenti ai tempi e riuscire a comprendere bene quali sono le dinamiche per fortuna abbiamo un gruppo di persone che sono illuminate che riescono a gestire l'altro giorno scherzavo gli ho detto stato presidente 8 anni non sono mai riuscito a far passare una mezza cosa ti ricordi le banche e tutte queste cose questo diventa presidente in 8 mesi gli passano 12 emendamenti aboliscono le banche e tutte queste cose io gli ho detto ci vuole ci vuole della fortuna a volte non sempre le capacità anche la bravura forse è meglio una persona fortunata che capace io ti ringrazio per tirarmi su di morale parlavamo perché si sono inasprite le sanzioni a febbraio è uscita dopo tanti anni di DL Cardiello Marinello un sacco di azioni fatte in 8 anni e poi è uscita la modifica la legge 3 il 15 febbraio sull'inasprimento delle sanzioni per gli abusivi che è una cosa che tanti anni che poi esce la pubblicazione della prassi e poi forse questa cosa perché adesso non vogliamo giustamente essere eccessivamente ottimisti effettivamente il mandato potrebbe essere finito posso dire una cosa volevo dire una cosa mi sento di dirla pubblicamente ovviamente i parlamentari sono prima di tutto cittadini sono persone io sentivo Paolo quando dicevano a Firenze mi pare sulla Polidori esatto Katia Polidori che ci ha aiutato anche in relazione alle banche ci fu quella notte dove chiamò la telefonata famosa di forse Unicredit o chi per loro che era già messo nell'ordine del giorno della commissione eccetera però devo dire che questo emendamento del disegno di legge europea noi abbiamo contatti con tanti parlamentari però ecco questo articolato che pare passare pare ma comunque è stato votato al senato ce l'ha presentato la qui presente Katia Polidori ecco io vorrei fare un plauso su questo perché è stato tramite lei tramite lei che l'articolato è arrivato in commissione ecco poi ho detto prima del senatore di Pamonti altri senatori ci hanno aiutato però altri componenti della commissione però se non arriva l'articolato non si discute di nulla quindi grazie e allora diciamo tutta quelle tre parole che sono state aggiunte perché bastava mettere l'incompatibilità con gli enti pubblici e privati quindi con i cittadini hanno aggiunto banche assicurazioni e queste cose perché naturalmente quando la maggioranza fa un emendamento e lo vota proposto al governo non può prendere l'emendamento della minoranza quindi c'è l'esigenio l'avrebbe fatto anche la Katia a parte inversa e quindi che cosa fai cambi due o tre parole e inserisci questa cosa questo è stato veramente ancora una volta la Katia ci ha aiutato in questo senso